Il 25 aprile 2017 alle ore 17 presso l'Associazione Culturale Vogherè di Via Felice Cavallotti 16 si terrà uno spettacolo, lo spettacolo Resistenze in occasione della Festa della Liberazione spettacolo ideato e scritto dalla compagnia tetrale Oltre un Po interpretato da Martino Iacchetti, Michela Marongiu, Elena Martelli e Elenia Santo e noi abbiamo qui ospite il regista di questo spettacolo Marco Oliva Marco buongiorno Buongiorno a tutti Dunque Resistenze, che cosa significa questo titolo? È una domanda aperta che abbiamo nel nostro spettacolo e che cerchiamo di dare una risposta nel creare un legame ideale con quello che è stata la storia della Resistenza e le storie quotidiane di Resistenza ce ne sono tantissime in un periodo chiaramente di grandi difficoltà con un numero così crescente di poveri ma la questione su quale noi ci soffermiamo come Resistenze parliamo di quelle legate molto di più all'ambiente dove parliamo di testimonianze e di sacrificio di tante persone nel mondo perché stanno difendendo i loro territori che sono violentati, che sono depauperati le loro ricchezze e che appunto molte di queste persone sono morte citeremo una serie di nomi e parleremo di alcuni esempi di resistenza anche oltre padani come è stato appunto contro l'inceneritore di retorbido anche quella è una forma di aggressione al territorio dove le persone hanno capito che mettendosi insieme è il modo di esercitare una sorta di resistenza attiva quello che ci hanno lasciato come testimonianza importante i partigiani con la resistenza è un sogno ideale di vedere un'Italia, una primavera dell'Italia un'Italia più prospera, più ricca dove le persone potessero vivere anche in armonia in piena libertà ecco per onorare il sacrificio di tanti partigiani che hanno lasciato la loro vita è quello di esercitare ancora oggi delle piccole resistenze un impegno quotidiano questo è il modo migliore per onorarli e che idealmente in questo spettacolo creiamo un collegamento con la storia di quel periodo e i nostri giorni Abbiamo parlato di ambiente che cosa significa per gli italiani resistere oggi nella cultura di oggi? Come dicevo prima ci sono tante questioni in un momento così di grande difficoltà ci sono persone che resistono quotidianamente a delle difficoltà economiche l'ambiente è la casa delle persone quindi oggi come dire non abbiamo un nemico indivisa che ci aggredisce ma certe scelte speculative o industriali rischiano di impoverire un territorio e di costringere persone magari a spostarsi quello che accade nei grandi fenomeni migratori che ci stanno interessando in questo periodo sono persone che scappano dalla guerra o da una serie di aggressioni anche da delle aggressioni che noi indirettamente facciamo se pensiamo alla Nigeria se pensiamo all'Honduras se pensiamo a altri territori noi come italiani siamo responsabili di quello che sta accadendo lì noi come europei siamo responsabili di quello che è accaduto nel Nord Africa visto che siamo andati a fare delle guerre e che ora non riusciamo a fronteggiare un fenomeno migratorio quelle persone stanno scappando da un sistema che noi abbiamo alterato e che quotidianamente stiamo alterando anche perché se nel nostro territorio abbiamo qualche precauzione ad esempio ad estrarre il petrolio o a trattarlo con delle eccezioni evidentemente visto che cosa accade in Basilicata o anche qui vicino in quei territori invece non c'è nessuna precauzione e quindi ci sono sversamenti ci sono inquinamenti molto molto importanti dove le persone si trovano ad avere un territorio improduttivo o velenoso al cui devono scappare mi viene da dire che è importante anche la consapevolezza a proposito di consapevolezza so che tra pochissime ore sabato 22 aprile Vogherè proporrà alla cittadinanza un altro appuntamento molto significativo proprio relativo alla festa della liberazione di cosa si tratta? Avremo tre ospiti la professoressa Mara Bertazzoni il dottor Roberto Lodigiani e il professor Giuseppe Porqueddu che rispettivamente ci racconteranno di Jacopo Dentici Lucchino Dalverme e Franco Antonicelli tre eroi della resistenza mi sovviene una frase di Pertini di Sandro Pertini il più amato dei presidenti che diceva la libertà si conquista tutti i giorni quindi mi sento anche vicino al discorso importante sull'ambiente che ha fatto il regista Marco Liva cioè le cose non si finisce mai di resistere è sempre nel quotidiano nei comportamenti delle persone bisogna resistere sempre il 22 aprile a che ora è previsto l'appuntamento? alle ore 17 stesso orario anche per invece lo spettacolo Resistenza ricordiamolo 25 aprile ore 17 via Felice Cavallotti 16 a Vogue Rè grazie Marco e grazie signora Ghezzi grazie grazie